E' uno dei concorrenti più attesi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo dell'attrice e doppiatrice Miriam Catania, 40 anni, figlia di Rossella Itzo e nipote quindi di Simona Itzo, famosa soprattutto per essere stata prima la fidanzata per 5 anni e poi la moglie di Luca Argentero dal 2009 al 2016. Miriam ha iniziato a lavorare giovanissima come doppiatrice e attrice, ha comparsa in numerose fiction tv e ha doppiato attrici come Kaira Knightley e Jessica Alba. Attualmente è legata al pubblicitario francese Quentin Cammerman, dal quale ha avuto il figlio Jacques, nato nel maggio del 2017.